La Romagna siamo noi, siamo veri romagnoni, per la vita che tu vuoi uniamo i nostri cuori. Eccoci qua, benvenuti in questo martedì 20 agosto, La Romagna siamo noi, vi ho portato un esemplare da riproduzione. Matteo Turci, per gli amici Teo, speleologo, lo dirà lui, ciao Matteo, grazie, abbiamo avuto anche il tuo babbo, tu sei figlio di artista, la settimana scorsa è venuto Otello e oggi ho detto no, io voglio Otello perché Otello mi ha parlato di pittura, di scultura, invece voglio parlare con chi vive le sensazioni giorno per giorno. Però prima di parlare io voglio capire chi sei te, perché hai questo look del Gesù Cristo, prima di tutto. Mi chiamo Turci Matteo, sei nato il 23 12 72 a Cesena, quindi quasi sotto Natale, sotto Natale infatti, appena ho compiuto 40 anni, sei sposato, sono sposato con una figlia di nome Anna, si ha 7 anni che la saluto. Salutiamo perché quando vedrai il babbo intervistato è ancora nato a farla. Sì sì. Vabbè, allora adesso ti voglio chiedere, tu da piccolino sei nato a Forlì, proprio Forlì Forlì? Sono nato a Cesena, però residente a Forlì dal 70. E sei il gemello? Sono un fratello gemello, sì. Chi si chiama? Emanuele. Emanuele. Chi è il più bravo dei due? Ovviamente io. Ovviamente. Ma siete nati sempre d'accordo? Assolutamente no, abbiamo una grande amicizia, una grande fratellanza perché essendo il mio gemello ovviamente andiamo d'accordo, però abbiamo due passioni completamente diverse. Cioè lui? Lui, mio fratello, lo sputa a fuoco, mangia a fuoco, lo sputa a fuoco, fa spettacoli, sì. E lavora in una struttura di accoglimento. Anche lui nel sociale. Come te. Il lavoro è uguale, le passioni diverse. Esatto, lei le lavora con i ragazzi disabili, ad un pippo e io lavoro presso la casa dell'accoglienza, però che è di San Paolo. Con gli anziani? Con gli anziani, un centro diurno per anziani. Ma da giovane dove hai fatto le scuole? Che scuole hai fatto prima di tutto? Prima di tutto a scuola ero un gran sommaro, diciamo così, ho fatto dopo l'elementare, ho fatto le medie, dopo le medie ho fatto due anni di salesiani e dopo sono uscito come tornitore specializzato e subito in fabbrica, da 17 anni, ho iniziato a fare operaio. Ah, subito, ti hai messo subito sotto? Sì, direi proprio di sì. Ma eri un po' scalmanato o un ragazzo tranquillo? Beh, diciamo che il mio carattere estroverso mi ha sempre portato ad essere un pochino fuori dalla norma, ho sempre apprezzato tutto quello che non era un po' la serietà, quindi... Quindi gli amici li catalizzavi attorno a delle grandi... Sì, dopo ho avuto una grossissima fortuna che i miei genitori mi hanno donato, che è quella di disegnarmi nel mondo dello scautismo e quindi già dagli anni 80, dall'81 ho stato il primo lupetto della San Paolo, assieme a altri ragazzi e questo mi ha portato a scoprire l'avventura, cioè il diverso. Diciamo così che la parrocchia ti ha un po' salvato. Assolutamente sì, assolutamente sì, l'ambiente parrocchiale, la parrocchia di San Paolo in primis è stato il mio punto, il mio centro di raccoglio. Parliamo del tuo lavoro, perché dopo parleremo delle tue passioni, invece il tuo lavoro è di stare con gli anziani dalla mattina al pomeriggio tardi in un centro accoglienza, con i nonni, che magari delle volte hanno anche dei problemi che non sempre capiscono. Diciamo che una volta finito il mio percorso da operaio tramite Domino, ha visto in me una figura, secondo me, un po' passarello, un po' particolare che poteva fare vivere un pochino meglio gli anziani e quindi ne abbiamo parlato diverse volte. Hai scombinato un po' la vita. Cominato così, esatto. Dopodiché ho incominciato a far parte della famiglia del centro di urno della parrocchia di San Paolo, proprio dall'inizio, perché il centro è stato aperto il 7 febbraio del 2000 e io faccio parte del centro di urno. Quindi andate a prendere i nonni con un pomino e vi riportate in questo centro. Partiamo dalla mattina alle 8, facciamo il trasporto, poi facciamo una breve colazione, momento di preghiera, perché ricordiamoci che siamo in una parrocchia e quindi è normale fare questa attività. Poi facciamo laboratori, pranziamo tutti insieme e dopo pranzo un po' di riposo, animazione, facciamo anche dei video in giro. Io ho visto dei video di carnevale che fanno paura. Sì, facciamo... Perché tu sei anche in Facebook. Sì, sono in Facebook, ho il mio sito personale, quindi... Sì, sì, realizziamo con gli anziani anche dei video molto divertenti, delle sfilate di moda, li trucchiamo, li facciamo ballare, perché secondo me la vita va anche vissuta in maniera divertente. Gioiosa, sì. Perché già c'è molta soffrezza in giro e l'anziano, l'ultima cosa che deve pensare è proprio la serietà. Ma in casa cosa dicono, in casa di questa tua esuberanza? La tua figlia ovviamente sarà contenta. La mia figlia e la mia moglie, sì, sono contenta della mia scelta, diciamo... Di vita. Sì, ha un stile di vita più che una scelta lavorativa, perché ovviamente mi impegno a fare una cosa. Non bisogna guardare tanto il guadagno a fine mese o l'orario, ma la realizzazione... Cioè, io sono così perché faccio questo. Cioè, mi piace essere felice, sono realizzato nella vita perché ho l'opportunità di svolgere il mio lavoro in un stile di vita che è bellissimo. Adesso io a tutti gli altri chiedo nei primi cinque minuti quali sono i loro hobby, le loro passioni. A Teo non gliele chiedo perché saranno oggetto dei prossimi momenti di intervista. Ti fermo, video commerciale. Ecco qua, bene, siamo ritornati con gli sponsor, pubblicità, mi raccomando, come sempre. E adesso, Teo, te balli? Assolutamente no. Non sei mai andato a ballare? Faccio pietà. Discoteca con le... Assolutamente. Sono andato a suonarci, io ho suonato... Cosa suoni te? Il basso, sono bassista. Ah, sì. Però ha vecchia passione. Vecchia passione. Allora, io adesso Cesena Danza, dai, Wanzer, Polkama, Boogie Boogie, sono Cesena Danza, fai tutto. Ed eccoci qua, bene, allora, ripartiamo questo martedì 20 agosto, questo pomeriggio con Matteo Turci che è presidente, ovviamente, questa è una roba seria, dello Speleo Club di Forlì. Speleo, perché uno sceglie di andare sottoterra e fa anche le magliette che dopo, quando giro con la maglietta, il tuo futuro è sottoterra. Chi l'ha inventato questa qui? Beh, mio amico, mio carissimo amico del gruppo e l'ha portato in superficie, questo è bellissimo motto, ed è la maglietta più venduta in Italia a livello di speleologia. Quindi nei raduni che facciamo una volta all'anno, anche ne approfitto per invitare tutti, a novembre, 1, 2, 3 a novembre, siamo a casa Valsegno, al raduno nazionale. Per i morti e per i cianchi. Esatto, per i morti. Facciamo questo raduno bellissimo, facciamo tutti gli anni e saremo presenti con le nostre magliette. Io me lo so messo, perché me l'hai regalato quando sei venuto ospite qua in trasmissione, me lo so messo, è stato un disarto. Io ero fermato, si potrebbe avere una maglietta, bisogna iscriversi a Speleo Club. Questo Speleo Club a Forlì, da quant'è che c'è e quant'è che sei presidente? Ok, allora, un po' la mia vita da speleologo si richiude brevemente. Allora, il gruppo nasce nel 1969 a Forlì, nel Forlivese. Tu non c'eri ancora? No, assolutamente no, dovevo ancora nascere. Tre anni dopo. Sì, esatto. E io mi sono avvicinato alla Speleologia nel 1997 per un'uscita fatta nelle grotte turistiche a Frassassi. Io uscito da quella grotta ho visto delle fotografie dove c'erano dei ragazzi vicini da speleologi, con i caschi tutti infangati, essendo poi già capo scout ho detto questa cosa, questa passione mi piace, vorrei provarla. E quindi tramite una telefonata che fece un ragazzo di Dello Speleo, che esisteva un gruppo nel Forlibese, hanno cominciato a fare esperienza di grotta. Ecco, abbiamo le fotografie, ci si veste così, ma tu non vai a vedere le grotte di Frassassi o quelle là di Postumia? No, assolutamente no, noi scegliamo di fare, la Speleologia comporta una discesa nelle viscere della terra, e quindi ci vuole un'attrezzatura, un comportamento. Cos'è un trapano? Sì, questo è un trapano, qui stiamo armando una grotta qui a Brigighella, nel Mende il Gesso, e dentro quel buco poi ci infileremo la nostra corda, che va a contrasto con un moschettone per la calata, diciamo. Ah, quindi è un po' come andare su per le montagne, invece che calare, andare su per l'aria, andate... Esatto, sì. Ma lì si incontra anche dell'acqua, cioè sapete che cose incontrate o andate anche allo sbaraglio? Beh, ci piacerebbe andare allo sbaraglio, nel senso che se uno va allo sbaraglio vuol dire che trova una cosa nuova, e quindi è la cosa che lo Speleo ammira e ama più di tutto, quindi l'esplorazione. Aprire una via? Aprire una via, noi ci abbiamo provato in due o tre occasioni facendo degli scavi, ma ancora senza risultati. Però ci stiamo lavorando. Quindi non vi è ancora da passare alla storia come la via Speleo Forlì o Matteo Turci. Ma adesso voglio chiederti una cosa, paura in quei momenti ne avete mai avuta oppure è una passeggiatina? No, non è mai una passeggiatina perché la speleologia non è mai da prendere sotto gamba. Prima di tutto c'è un corso da fare per l'avvicinamento alla speleologia dove noi insegniamo ai principianti l'uso degli attrezzi, come ci si veste e il comportamento che c'è in grotta. Dopodiché è soltanto esperienza, quindi un ragazzo che si dà un corso non è ancora un speleologo, ma è la vita poi nei mesi successivi. Uscite, uno dietro l'altro. Esatto, si diventa prima bravi, poi bravissimi, poi esperti, poi se uno vuole intraprendere la carriera d'istruttore. Ma ascolta un po', tutte quelle cose che sento in giro, che uno è rimasto là sotto, che non viene più fuori. Perché? Cosa succede? O sono cambiate le situazioni raggiù in fondo, in quel momento c'è più acqua, è crollato qualcosa, oppure è andato da solo. Ci si va sempre in compagnia? È augurabile andarsi in compagnia o ci si va anche da soli? Assolutamente mai da soli. Minimo tre persone perché noi che raccogliamo se un ragazzo si fa male, uno deve sapere uscire fuori e l'altro rimane a fargli soccorso, a fargli compagnia. Poi entrerà in un secondo momento una squadra di soccorso dove porteranno fuori il malcapitato, sempre assolutamente. Per quanto riguarda le paure, io personalmente non ho mai avuto paura. Diciamo, molta emozione, soprattutto nei primi posti alti, diciamo, quando superano i 70, 80, 100 metri, lì c'è una grossissima emozione perché la tua vita è attaccata alla corda, la corda del 10 statica. Quindi quello c'è il brivido dell'emozione. Però da dire che ho mai avuto paura in questi 16 anni di speleologia, direi proprio di no. La grotta che ti manca, che non ci sei ancora andato, che sai che però è bellissima e ci vorresti andare, dov'è? Beh, una grotta che mi manca e che rifarei perché sono già stato è la Spugla della Preta. Perché questa grotta... Dov'è sta roba? E' nei Monti Lescini e Verona. Facciamo un'espedizione, io con altri, con Fabrizio Bandini, Massimiliano Bombelli e Fabrizio Spassoli di Ravenna, del gruppo di Ravenna. Facciamo un'espedizione a meno 800. Lì è stata una bellissima emozione, siamo stati sotto 50 ore ed è stata un'emozione incredibile perché parti con il 135 nel vuoto, tanto per incominciare. Poi si seguono degli altri posti, 108, l'88, comunque sono oltre 30 posti per fare il fondo. Mi hanno dormito insieme due notti e quindi mi hanno fatto veramente il gruppo e quella grotta sicuramente l'andrò a rifare. E il babbo e la mamma cosa dicono? Assolutamente, ci hanno fatto un po' il callo, dicono stai attento. E anche la moglie? La moglie l'ho conosciuta. Viene anche lei in grotta? No, assolutamente no. L'ho portato una volta sola, ha avuto un po' di paura, un po' di freddo, quindi rimane a casa. Ho già capito che anche te sei una di quelli che dici le donne. Però ci sono delle donne, speleologi? Sì, ci sono, ci sono. Ne abbiamo 5 o 6 nel nostro gruppo che fanno regolarmente attività, si danno molto da fare. All'interno del mio direttivo, del direttivo dello speleo, c'è anche l'Elise che è una donna. Bravissima, speleologi. Ti fermo perché abbiamo video Bella Romagna. Mi dispiace, non è una grotta, perché noi i nostri operatori vanno sempre fuori, vanno a vedere dei monumenti, delle opere d'arte, dei paesaggi, a sorpresa. Bella Romagna. Ecco qua. Allora, siamo con Matteo Turci, presidente dello speleo Club Forlì, però anche istruttore nazionale addirittura. Sì, sono istruttore della scuola nazionale, istruttore nazionale è un altro tipo di livello, un pochino più in alto. Sì, sono istruttore della scuola e mi piace esserlo. Facciamo anche parte del CAI di Forlì, lo voglio sottolineare perché è un club alpino italiano. E siamo, sì, che esiste nel Forlìvese e faccio parte anche della federazione dell'Emilia Romagna. Quindi a pieno titolo. Sì, ti siamo di Silvia. Finalmente un ragazzo terribile è stato riconosciuto ed è il presidente. Sono il presidente, sì. Allora, questo ti dà una certa serietà di impostazione. Ma io sono molto orgoglioso di essere un po' le rappresentante del gruppo perché un po' me lo sono guadagnato e un po' perché facendo anche molte attività di gruppo è normale che poi anche gli altri soci ti riconoscono un pochino di quello che fanno. Adesso un'altra avventura che è passata alla storia perché diciamo che la tua passione, diciamo, di vita, quella degli altri, di aiutare magari coloro che sono un po' più in difficoltà, gli emarginati, i disabili, che è sempre stata un po' una caratteristica della tua famiglia e anche di voi due fratelli, l'hai trasferita nella tua attività di Speleo Club. Cos'è successo? Spieghi. Allora, la cosa bella, un po' la mia testimonianza che voglio raccontare è stata quella che nel 2011 in un campo di condivisione con dei ragazzi disabili, a cui ho fatto parte per qualche giorno, ho avuto l'opportunità di far salire, scendere. Non sarei stato a Sappada. Sì, a Sappada. Abbiamo parlato con Casadei, con Franco, quindi Sappada è conosciuto dalla nostra trasmissione. Dopo di Sappada ho avuto l'opportunità di mettere su, a mettere ai ragazzi disabili l'imbrago e di far salire e scendere anche le carostine in una parete artificiale. E lì è stata una grandissima gioia. Sulle due miti. Sulle due miti, sì, esatto. E quindi anche imbregando le carostine abbiamo dato la possibilità a alcuni disabili di fare una cosa che non era proprio da tutti i giorni. Certo. E quindi abbiamo dato questa gioia. In quell'occasione ho conosciuto i due gemelli, Giulio e Giotto. Neanche a far la porta, gemelli anche loro come te. Esatto. Giotto e Giulio di Bertinoro. Di Bertinoro. In carostine a tutti e due. In carostine a tutti e due dalla nascita. E lì abbiamo stretto una fortissima amicizia e quando loro hanno cominciato a dirmi ma cosa si prova ad andare sotto terra, che cos'è la spellologia e gli ho detto guardate io faccio prima a portarvi a vedere cos'è la grotta. E qui li abbiamo imbragati, vediamo la fotografia, questo è Giulio. Questo qui è Giulio, sì. Sì. E' l'arte Giotto. Eccoli qua imbragati tutti due. Sì, qui siamo all'Atanaccia a Brisichella, mi ha fatto una bellissima esperienza. E da di lì, quando sono partito, non avevo la più palle d'idea di come trasportare due ragazzi disabili e delle loro difficoltà all'interno della grotta. Dopo ho avuto parecchi appoggi in giro per l'Italia, in quanto le barelle mi sono state prestate dal gruppo di Gorizia, Albertarelli. E da lì noi siamo partiti. E dove è stata la prima avventura? A Brisichella. A Brisichella, diciamo nella Avena del Gesso di Brisichella, in una grotta completamente orizzontale. Quindi, però con dei passaggi anche un po' strettini, in mezzo all'acqua. Quindi abbiamo fatto vivere la spelogia anche i due ragazzi che altrimenti non avrebbero... E quante è durata questa prima avventura? Beh, il primo giro è un paio d'ore. Dove i ragazzi li abbiamo trasportati praticamente fino a tre quarti della grotta. Ovviamente su due barelle del soccorso alpino speriologico. Ed è stata una grandissima emozione per tutti, perché anche il resto del mio gruppo, che diciamo il volontariato, comunque il disabile, diciamo se mi è stato un po' a parte, hanno condiviso pienamente e con gioia e felicità questo momento. Poi l'avete fatta grossa, perché adesso Giotto e Giulio vorrebbero andarci ancora. Esatto. E gliele avete già portati. L'abbiamo già riportati, così qui è il terzo anno. Quest'anno poi tra l'altro è stata un'occasione molto bella, perché un po' dopo i nostri filmati che hanno girato su internet, un altro gruppo si è mosso al Valle Italiano, proprio a livello nazionale, che si chiama Diversamente Speleo e fa parte Pescara, Napoli, Roma, Narni e Napoli. Sì, sono questi cinque ragazzi in giro per l'Italia che si sono adoperati per far sì che anche i disabili abbiano un'importanza e stiano bene come noi in grotta. Quindi quest'anno a Frassassi i gemelli sono stati portati assieme a altri 4-5 ragazzi disabili, sempre con le barelle. Ecco, ma non nel percorso turistico. Abbiamo fatto due percorsi, il primo fuori dalle grotte turistiche, le abbiamo portate alla grotta del Mezzogiorno, il finale abbiamo fatto far circa 200-250 metri in barella e poi abbiamo mangiato tutti insieme e l'impomeriggio abbiamo fatto visitare le grotte turistiche. Attenzione, le grotte turistiche non sono proprio per la carossina, perché ci sono tantissimi gradini dove salgono e scendono, quindi anche in quell'occasione ci siamo attaccati alle carossine, due davanti e due di dietro e le abbiamo sbalottate un po' per tutta la grotta. Prossimamente? Prossimamente abbiamo una bellissima iniziativa per il prossimo anno 2014, andremo in quella di Vicenza a fare il bus della Rana dove all'interno di questa grotta, soprattutto la prima parte, i gemelli con un'altra ragazza amica mia carissima, la Romina Santini di Cattolica, verranno messi tutti e tre in un canotto e trasportati all'interno di una grotta, sopra un canotto, nell'acqua. E dopo faranno anche speleologia. Bene, auguri, auguri. Ti fermo qui, ti ringrazio di questa testimonianza bellissima. Avete visto le immagini, la dicono lunga. Tradizioni, il nostro appuntamento. Matteo Turci, speleologo, presidente Speleo Club, matto, operatore sanitario, socio sanitario, nel centro di accoglienza anziani della parrocchia di San Paolo e matto, l'ho già detto, perché matto, perché l'ultima, quando l'hai fatta l'ultima salita? Tre settimane fa, i primi d'agosto, il 5 e il 5 d'agosto, lunedì, abbiamo fatto una scalata a San Mercuriale. Il campanile di San Mercuriale, 72 metri. 72 metri, uno dei più bei campanili romanici che ci sono in Italia e nel mondo, ha avuto l'attacco di Matteo Turci. Perché? Perché il comune ha organizzato in passa la piazza, diciamo le forlivesi, ha chiesto un po' a tutti i gruppi, le associazioni, sportive e non, di fare un qualcosina intendo la piazza per attirare un po' i forlivesi a venire nella piazza. Noi potevamo fare due cose, o la visita guidata al canale di Ravaldino, oppure andare sul campanile. Canale di Ravaldino, ma sotto terra. Esatto, sotto terra anche quello, quindi era più strettamento alla nostra portata, diciamo così. Poi per far vedere un po' chi siamo e chi non siamo, abbiamo detto, alla verticalità, fuori c'è solo il campanile di San Mercuriale, un'altezza significativa dove la gente può capire chi siamo e soprattutto vedere un po' come ci muoviamo le attestature. In quanti eravate? Allora, a scendere, allora, prima di tutto è stato il CAI che ha organizzato un po' il tutto, diciamolo come Spellio. Come corde, come agganci. Sì, come gruppo. Eravamo più o meno una ventina che ci siamo calati e anche arrampicati, perché ricordiamo c'era Spellogia, buttiamo giù le corde, quindi scendiamo per poi risalire. In questo caso, abbiamo fatto finti di essere sotto terra. Quindi nel primissimo pomeriggio abbiamo calato le corde dall'alto, passando dai gradini di San Mercuriale fino in cima. A quel punto abbiamo regato tutto il talaio che supporta le campane e poi abbiamo fatto scendere le corde attraverso le quattro colonine che sono in cima. Dal di lì poi io dal basso ho testato, diciamo, le vie, quindi sono andato su e poi giù e in quella maniera lì hanno fatto tutti gli altri nel pomeriggio. Quanto è durata questa operazione del campanile, guardate che meraviglia di campanile che è stato così, non ce l'hanno fatti i tedeschi a buttarlo giù, fa finire che ce la fa Matteo Turci. Questa foto è stata scattata da Lillina Vanni, che è una mimica di Grotta Mare, che è venuta su apposta per fare questa esibuzione. In tutto è durata, nel pomeriggio, tre ore per l'assistimazione delle corde. Diciamo che dalle quattro alle sette l'abbiamo impegnata per l'assistimazione, anche tutta la struttura, anche tutte le transene che abbiamo messo. In sé per sé, la serata, diciamo, dalle nove abbiamo fatto vedere il video dei gemelli, quindi tre quarti d'ora il video dei gemelli, nel frattempo ci siamo calati, facendo calata e arrampicata su corda sopra il campanile. Bene, ma tu hai mai fatto dei percorsi di montagna, diciamo, in scalata, sulla roccia o hai sempre sotto fatto lo speleo? Io, per esempio, la mia 99% dell'edità la passo sotto terra. Ho fatto un paio di forre, che vuol dire torrentismo, andare nell'acqua, nel fiume, fare le carate in mezzo al fiume, e ho fatto qualche ferrata sempre con il gruppo di Sappada. Sì, comunque come tutti, però non sei mai andato in solitaria su delle strade. E gli altri sport estremi, quelli che ci si butta giù con gli elastici, attaccati ai piedi, oppure il paracadutismo, non ti ha mai... Assolutamente no, io ho una grandissima paura di volare, di buttarmi con l'elastico, non ho paura, io mi fido solo della corda. Se io ho una corda mi posso calare dappertutto, ma se non ho la corda ho il terrore. Quindi sembra strano perché tutti dicono, come mai, cioè, che fai queste cose e poi quando prendi l'aereo per andare in viaggio... Infatti la mia moglie è un po' disperata perché vorrebbe girare il mondo, e io invece sono molto pauroso e la metto un po' in difficoltà. Questo ti rende un pochino più umano, eh? Assolutamente sì. Ma tuo fratello, il fratello gemello, Emanuele, condivide un po' questa passione o ha più paura di te? Lui che non ha paura del fuoco, ha sempre un po' più poca... Assolutamente, mio fratello soffre un po' di clastrofobia, sembra strano ma se lo mettete dentro l'ascensore... Il fratello è anche un pochino più piazzato, anche più forte di me, tra l'altro. Si tira giù proprio l'ascensore, perché ha proprio paura un po' delle chiuse. Poi abbiamo due strade completamente diverse, non li ha mai... È venuto una volta sola con la sua moglie in grotta e ha fatto un po' pietà. Ha tornato subito indietro. Ha tornato indietro e ha detto assolutamente non è per me questa strada, quindi sono andato avanti io. Bene, allora, a questo punto abbiamo finito un momentino le varie passioni, le tre cose importanti. Però cosa ci sarà nel futuro glielo chiediamo dopo. Bene, siamo arrivati alla fine, è stata una bellissima puntata in cui abbiamo parlato di belle cose, di una vita spesa per gli altri, di una passione proprio diventata anche un luogo di solidarietà e di accoglienza, che quando uno ce l'ha dentro lo mette dappertutto. Nel futuro, come vedi il tuo futuro, Teo? Sottoterra? È sparare sopra la corse rossa, il mio futuro è assolutamente sottoterra, assolutamente. Ma non è che tu vorrai essere, hai lasciato scritto che più tardi possibile, ovviamente, solo per rispetto a Paola e a Otello. Ma se tu dovessi dire, io nella mia cassa voglio una corda, voglio una picosta, un trapano, non lo so che cosa, una pila, perché se mi capita io vado a fare un giro. Beh, ci ho pensato, ci ho pensato, beh, direi che quando sarà il momento, speriamo il più tardi possibile, sarò vestito come uno speleologo, perché è talmente tanta la passione che... Ma c'è un'età per poter fare uno speleologo, oppure si può durare finché forza c'è? Finché forza c'è è la risposta più esatta, nel senso che da 16 anni, che la gente può cominciare a fare il corso, fino a abbiamo dei ragazzi, dei signori, dei ragazzi, comunque delle persone che hanno 60, oltre 60 anni. Ma la tua esperienza come presidente di Spellion Club, quanti siete come soci? Una cinquantina. Una cinquantina. C'è sempre, in gran parte, molte volte, quasi sempre, la condivisione del partner? Oppure ci sono delle scene allucinanti? No, non andare, ma porca miseria, ma perché? Succedono tutti e due, nel senso che... Beh, io personalmente ho diversi amici molto importanti, uno di quelli è la mia ombra di grotta, che è Fabrizio Bandini, che li voglio in gran bene, è come un fratello, diciamo. Andiamo spessissimo via insieme e con altri ragazzi, diciamo, che ho più confidenza. Poi, in realtà, ci organizzano alcune cose strettamente per il gruppo, che sono i corsi, che sono le attività di gruppo, e quelli tutti insieme dobbiamo collaborare. Poi, all'interno dell'anno, ci sono alcune fine settimana che uno si può permettere di andare via con chi vuole. Con il suo dirantimento. Con il suo dirantimento, quindi noi usciamo, siamo anche abbastanza spesso, e quindi si creano questi gruppetti, però sono assolutamente inoltre. No, qui per il gruppo, nel senso che facciamo sempre parte dello Spello Club For Lee, ma poi... Quindi sentite anche la responsabilità di non fare sciocchezze. Assolutamente. E' proprio la nostra amicizia che ci unisce, e poi siamo arrivati a un punto dove personalmente dico, ok, vado a fare una grotta, può essere bella quanto vuole, ma quello che mi prema adesso è stare con le persone a cui voglio bene. Quindi non mi importa più se la grotta è bella, o è brutta, o è fangosa, o è profonda. L'importante è che la compagnia sia sposta. L'importante è che la compagnia è fondamentale perché poi in caso di pericolo, in caso di soccorso, c'è il tuo amico che ti salva. Sai di poterti fidare di una persona che è disposta a spendere anche la sua vita per te. Esatto. E tu sei così anche per loro, ovviamente. E sono così anche per loro, per chi mi conosce sempre. Ti ringraziamo Teo di questa testimonianza, di questa tua presenza, ti facciamo gli auguri più belli, in bocca al lupo, credo si dica, per le attività del gruppo, per Giotto e Giulio un saluto e una rivederci alla prossima avventura. Un'altra ragazza hai detto che c'è. Sì, la Romina, che la saluto che adesso diventerà rossa poi un'altra. La Romina di Cattolica. Bene, noi vi ricordiamo che andiamo in onda tutti i giorni che fa il Signore, non in grotta ma alla piena luce di queste telecamere, da lunedì alla domenica alle ore 14, tutti i giorni, in replica alle 23.30. Un'ora e un quarto, un'ora e venti, di amicizia, di simpatia, di romagnolità e, come sempre, di sorprese. Canale 11 è la nostra emittente, domani è mercoledì 21 agosto, però per questo martedì 20 agosto un grazie grande a Turci Matteo. Grazie, grazie a tutti.